Per noi la parte di investimenti industriali è molto importante, siamo un'azienda che cresce principalmente per prodotti interni e quindi abbiamo una crescita importante nel nostro network e poi abbiamo evidentemente anche un'importante gestione di tutto quello che è il mondo MRO. Concordo sul fatto che le categorie sono molto ampie e diversificate, anche questa è una logica che vale assolutamente per noi e direi che la nostra tematica è molto variegata perché lavoriamo su un scenario internazionale sia come filiera e fornitura sia come utilizzo di quanto andiamo ad acquistare e andiamo su anche un range molto ampio di tipologia di fornitore, quindi si lavora dalla grande multinazionale al fornitore piccolo. In termini di mix di competenze sicuramente partiamo da risorse con un background tecnico importante nel nostro caso, se possibile anche consolidato nella nostra azienda e competenze invece più di natura commerciale, analitica, strategica con capacità di mettersi un pochino in gioco sui mercati internazionali. Il mix delle due competenze è quello che devo dire ci dà i risultati migliori. Noi abbiamo diverse tipologie di cliente interno, diciamo che quella più diversificata sono i colleghi che lavorano nei vari uffici di manutenzione e ingegneria degli stabilimenti, quindi delocalizzati e sparsi in giro un po' per i cinque continenti e il progetto su cui si sta lavorando è quello per esempio nel mondo specifico delle utilities di declinare accordi quadrocentrali con i grandi player internazionali declinati su base locale con installatori presi ovviamente su base locale a quel punto e quindi sviluppando anche conoscenze e competenze dei nostri clienti interni. I KPI cerchiamo di crearli una sorta di mix tra KPI soggettivi e questo sono tipicamente le servi con i nostri clienti interni e KPI più oggettivi quali possono essere per esempio la corrispondenza rispetto al livello di servizio, rispondenza qualitativa e via dicendo. Competitività economica e alta capacità tecnologica qualitativa sono non obiettivi ma dei dati di partenza. esattamente quindi questo per noi sono le condizioni per entrare nella nostra short list di fornitori chiave. Poi quello che è molto importante per noi è la reattività e la capacità di pianificare perché essendo un'azienda che ha importanti piani strategici abbiamo bisogno che i nostri fornitori a loro volta pianifichino e evolvano più o meno con la stessa se non un'altra direzione. Sono venuto qui con una certa curiosità perché la prima volta partecipavo a una tavola rotonda di questo genere e su una tematica specifica quale quella degli acquisti indiretti. Devo dire che i riscontri sono molto positivi, c'è stato un giusto compromesso tra un'ottima preparazione sugli argomenti fatta preventivamente e preliminarmente e un certo spazio per poter anche dialogare e evidenziare pensieri emersi grazie alla discussione al benchmark fatto con altri colleghi.